Attenzione al fuoco! 3, 2, 1, per Santa Barbara, fuoco! Nel 4 dicembre, giorno di Santa Barbara protettrice degli artificieri, nonché dei vigili del fuoco, è stata fatta brillare la bomba d'aereo della seconda guerra mondiale ritrovata in strada a Montefeltro il 18 ottobre scorso. Un ordigno di oltre 450 chili, metà dei quali di Tritolo, che è stato fatto detonare a mezzogiorno e un quarto dagli artificieri del genio ferrovieri di Castelmaggiore di Bologna, nell'isolata ex Cava della Pica, in strada Stroppato. A case bruciate dintorni era stata prevista un'evacuazione per sette ore per i circa 900 residenti chiamati fuori di casa dalle 8 alle 15. Invece l'operazione si è svolta in tempi rapidissimi. Fra le 9 e le 9.50 si è completata la bonifica, il disinnesco e la rimozione dal luogo del ritrovamento con le famiglie che sono potute rincasare già poco dopo le 10. Stesso orario in cui è stato riaperto il casello autostradale di Pesero e la circolazione sulla 14 nel tratto preventivamente chiuso fra Fano e Cattolica. L'operazione è particolarmente compressa, rientra in un'attività che svolge l'esercito italiano di bonifica occasionata al territorio di cui noi siamo uno dei reggimenti che opera sul territorio. Questo è uno degli ordini più grossi del centro d'Italia che fu lanciato durante il conflitto della Seconda Guerra Mondiale. La comprensione è dovuta dalle dimensioni e dal sistema di innesco dell'ordino stesso. Non solo esercito, la bonifica che ha portato all'evacuazione di un'area strategica sia a livello residenziale che di viabilità è stata coordinata dalla macchina operativa apparecchiata dalla prefettura di Pesero Urbino ben prima dell'alba. Innanzitutto la prefettura ha costituito il centro di coordinamento soccorsi presso la sala operativa integrata della regione Marche dove confluiscono tutti i soggetti interessati dalle operazioni di bonifica, in particolare oltre logicamente alle forze di polizia e al reggimento Genio, i vigi del fuoco, la polizia stradale 118, la croce rossa, tutti i soggetti chiaramente fanno parte di un unicum per una direzione unitaria delle operazioni. Dal punto di vista dell'impiego di uomini sono circa 100 unità distribuite tra forze di polizia, polizia locale, esercito e volontariato. In particolar modo il volontariato ha una particolare rilevanza anche dal punto di vista del supporto a tutti i cittadini cercando di alleviare i disagi per quanto riguarda le operazioni di evacuazione, per quanto riguarda chiaramente poi il rientro nelle proprie abitazioni. Un'operazione parsa eccezionale per Pesero che invece è tutt'altro che infrequente nel centro Italia. In realtà nella provincia di Pesero abbiamo già disinnescato durante quest'anno circa 36 ordigni e dal 2007 360 ordigni, quindi un'attività che facciamo quotidianamente ma che oggi ha particolare rilevanza in quanto creiamo un disagio per la popolazione locale. Disagi per la popolazione di fatto piuttosto limitati. L'evacuazione si è svolta con ordine, senza mugugni e nei tempi prestabiliti. La maggior parte degli evacuati ha trovato sistemazioni fuori dal quartiere, una manciata di persone ha sfruttato il centro d'accoglienza adibito per l'occasione all'interno della Vitri Frigo Arena.